Abbiamo vissuto un anno molto difficile e sicuramente il vaccino ci può aiutare a riportarci tutti vicini e più uniti. Ma per me significa soprattutto proteggere noi stessi e tutti gli altri. Giocando in una squadra abbiamo bisogno del contributo di tutti per essere più forti, per essere più uniti, quindi non lo facciamo solo per noi stessi ma per tutti. Distanti ma vicini. Proteggiamoci. Ancora. Grazie a tutti.